ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video dalla quarantena ci tengo a specificare che questo video non deve essere in nessun modo replicato da nessuno di voi è stato realizzato quasi un anno fa e totalmente per caso non era un video voluto abbiamo deciso di scendere in moto deciso di portare la copro caso mai fosse successo qualcosa di divertente e ho deciso oggi dopo un anno di realizzare questo video oltre a dirvi che non dovete assolutamente replicare questo video usate sempre le protezioni noi in questo caso indossiamo il casco integrale i guanti in pelle come avete visto e anche la giacca in pelle ma è sbagliatissimo il casco c'era il resto delle protezioni no perché appunto dovevamo andare semplicemente al bar non avevamo intenzione di fare nulla comunque detto questo vi lascio al video buona visione www.mesmerism.info Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.